non tocca il soffitto che poi si vede, anche se è trasparente ma lì c'è isolante sì però il vetro così sta stracciato a bianca fa parte diciamo del prodotto poi dopo quando si asciuga è perché ti portava via un po' di colore secondo me adesso non potete riportare visto che questa è una prete già isolata alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.